Zeman e Capuano, allenatori agli antipodi per idee e visione calcistica, si affronteranno sabato alle 14.30. Si gioca allo Iacovone di Taranto, con 5 punti di vantaggio sui play-out, il rosso-blu sono ad un passo dalla salvezza. Capuano è subentrato a Di Costanzo dopo le prime due giornate. Allenatore pragmatico, vulcanico, capace di esaltarsi, i risultati in carriera sono dalla sua parte in situazioni particolarmente complicate. Il Taranto segna poco, peggiore attacco con 23 gol, di cui appena 4 tutti in casa nel girone di ritorno. Ma nel contempo subisce altrettanto il dato complessivo, 36 reti incassate, quinta migliore difesa, nel girone di ritorno soltanto 8, di cui appena 3 davanti al pubblico amico, una col Picerno, due con Lavellino. In casa il Taranto ha conquistato 30 dei 41 punti certificati dalla classifica. In generale tra gare interne ed esterne per ben nove volte l'undici di Eziolino Capuano ha pareggiato 0-0, con 110 gialli e la squadra più ammonita. Avversario dunque da affrontare con dovuto rispetto e con la necessaria garra. Il Pescara è in crescita. Zeman dovrà rinunciare al portiere Plizzari, tre pali Sommariva e agli squalificati Brosco e Milani. Nel cuore della difesa ballottaggio Boben in grosso. La fascia mancina sarà invece presidiata da Alessandro Crescenzi. Sono 250 i biglietti del settore ospiti a disposizione della tifoseria del Delfino. Il costo 11 euro più i diritti di prevendita. Biglietto acquistabile sino alle 19 di domani, venerdì 7 aprile.